Amici ascoltatori, un cordiale saluto dalle splendide stanze del Palazzo Papale di Rieti. Ci troviamo in compagnia del professor Casciani, con il quale faremo una trattazione delle quattro puntate che lui ha sapientemente portato avanti e svolto e che hanno riguardato un po' l'ambiente della cultura proprio religiosa della nostra città, della nostra diocesi e abbiamo sviscerato anche problematiche di variegata umanità importanti. Professor Casciani, vogliamo fare un po' il punto di quanto è stato detto ai nostri ascoltatori? Sì, diciamo che mi sembra di poter dire per ciascuna delle quattro trasmissioni due parole. Una è stata quella che abbiamo chiamato nel cortile dei gentili e è un'espressione presa dal messaggio del Papa per la giornata delle comunicazioni sociali. Cioè il Papa ha detto cerchiamo di dare la possibilità anche a coloro che hanno una prospettiva diversa riguardo alla fede, riguardo all'esistenza di Dio, la possibilità di esprimere la loro opinione. E noi l'abbiamo fatto invitando tre professori di filosofia dei nostri licei che ci hanno dato un po' l'idea di quello che pensa, a cui crede, diciamo un professore di filosofia, ripercorrendo alcune tappe della storia della filosofia. Mi rendo conto che quelle trasmissioni possono essere state magari per le persone non al dentro della storia della filosofia, trasmissioni anche un po' pesanti, però hanno suscitato l'interesse di molti cittadini riguardo a questa questione di Dio. Poi c'è stata la trasmissione che abbiamo fatto con i giovani sacerdoti sulla loro vocazione, quindi come è nata la vocazione in questo periodo soprattutto di crisi, l'abbiamo chiamata sul pinnacolo del Tempio. E lì pure abbiamo avuto dei sacerdoti che ci hanno raccontato un po' la storia della loro vita, perché spesso neanche gli stessi parrocchiani di questi sacerdoti conoscono bene come è nata la loro vocazione e la scelta di diventare preti. Poi abbiamo chiamato alcune trasmissioni nelle stanze di Bonifacio e le abbiamo tenute qui dagli uffici della Curia, facendo parlare i responsabili degli uffici che si occupano soprattutto di alcuni ambiti pastorali molto importanti, come la Caritas, la pastorale della salute, il sostegno economico alla Chiesa. Poi abbiamo fatto alcune trasmissioni da San Rufo con padre Mariano Pappalardo, tra il vestibolo e l'altare le abbiamo chiamate sulla pastorale e la liturgia, quindi ambiti diciamo di tipo ecclesiale però raccontati con calma e con uno spirito di approfondimento dalle persone direttamente interessate. Casciani, mai come in questo momento si avverte la necessità di creare un tutt'uno tra la Chiesa ufficiale e l'Ecclesia, vista come unione di anime. Quanto è importante far partecipare le persone e renderle edotte in ogni attività che si svolge? In particolare, io ricordo la trasmissione che avete fatto insieme al diagono Nazareno Iacopini, molte persone ignoravano che vi fosse un'organizzazione così capillare pronta ad aiutare nel momento del dolore. Quanto è importante proprio aprire il palazzo della Chiesa? Diciamo che forse uno degli scopi che abbiamo avuto è stato proprio questo. Intanto è importante perché la Chiesa sono tutti i cristiani, tutti i battezzati e quindi in molti si occupano e partecipano alle associazioni di volontariato in favore delle persone malate, dei poveri. Ci sono persone che a volte neanche noi che diciamo viviamo qui in queste stanze tutti i giorni a volte neanche le conosciamo, però ci sono persone che quasi in modo anonimo fanno tantissimo per i malati, per i poveri, per le persone bisognose. È chiaro che sono necessità sempre molto, anzi sono in aumento addirittura e non si riesce a far fronte a tutte queste necessità, però c'è molta gente e è importante che la diocesi, il centro della diocesi, svolga non solo un ruolo di coordinamento, ma questo lo deve fare soprattutto il mio ufficio delle comunicazioni sociali, cioè quello di comunicare anche a tutti gli altri che esistono queste realtà. Perché a volte i mezzi di comunicazione, soprattutto quelli a diffusione nazionale, ci dicono tutte le cose che non vanno e è giusto che ce le dicano, però ci sono anche tante cose che funzionano bene e forse dobbiamo farle conoscere meglio. Casciani, in questo momento che è un po' travagliato nel mondo per varie vicissitudini, quanto conta l'aspetto di portare i giovani dentro l'organizzazione proprio umanitaria della Chiesa? Dunque, questo è un punto un po' difficile nel senso che ci sono tanti giovani, anche noi qui a Riedi ne abbiamo tanti, che partecipano ai movimenti come l'Azione Cattolica, le comunità, il cammino neocatecumenale, c'è tanta gente che vive proprio la vita della Chiesa. Però ci rendiamo conto che ce ne sono tantissimi, troppi, che sono fuori dalla Chiesa oppure vivono lontani, oppure vivono ma in maniera tiepida. Mi rendo conto che questo è un momentaccio brutto perché anche per certi versi giustamente la Chiesa è attaccata su più fronti, a volte, ripeto giustamente, a volte secondo me in maniera strumentale. Però loro chiaramente percepiscono tutto questo dalla televisione, dalla rete, da internet e quindi si sentono anche un po' combattuti. Pure quelli che vivono volentieri all'interno delle parrocchie e dei movimenti vedono che c'è questo momento di crisi per la questione dei sacerdoti, di cui sappiamo riguardo agli abusi sessuali, per tutta una serie di critiche pure al Papa. Quindi è vero che ce ne sono tantissimi, migliaia e migliaia che sono andati anche a San Pietro pochi giorni fa sostenere, diciamo, anche la figura e l'opera del Papa. Però ce ne sono anche tanti che si pongono delle domande. Noi dovremmo trovare il modo per intercettare questi loro bisogni e far sì che loro possano esprimere questi loro bisogni anche all'interno della Chiesa, perché c'è spazio per tutti. Mi rendo conto che è molto difficile perché a volte la Chiesa viene percepita solo come istituzione o prevalentemente come istituzione e non invece quello che soprattutto è come comunità di battezzati che hanno i loro difetti, i loro peccati, vivono nelle difficoltà della vita di tutti i giorni e quindi perché i giovani vogliono giustamente dagli uomini di Chiesa, da noi, delle risposte e soprattutto vogliono anche una grande testimonianza di vita cristiana e non è facile per noi darla. Ascolta Casciani, durante le tue trasmissioni hai parlato molto anche dal punto di vista filosofico, sono stati sviscerati molti problemi e soprattutto sono state messe in luce tante caratteristiche della filosofia che hanno portato vari discorsi sulla religione. Credi che a questo punto la Chiesa come istituzione abbia bisogno di una riforma vera e propria per andare incontro al terzo millennio? Questa è una domanda impegnativa. Dunque, io ho una mia idea su questo e non so se sia pure corretta ma siamo un po' tutti in ricerca. Sicuramente questa è un'epoca di grandi novità e soprattutto ci avviamo verso periodi in cui i cambiamenti saranno sempre più veloci. Questo per la comunicazione, per tutti i mezzi che abbiamo a disposizione. Quindi la Chiesa dovrebbe fare questo, quello che ha sempre cercato di fare in questi duemila anni, a volte spesso c'è riuscita, a volte non c'è riuscita, dovrebbe cercare di conservare il deposito della fede, così lo chiamiamo, cioè il Vangelo, diciamo. E però dovrebbe trovare nuovi mezzi per annunciarlo, questo Vangelo. Certamente c'è bisogno, questo però è una mia opinione personale, di riforme strutturali proprio all'interno della Chiesa. Io adesso ne dico una, mi dispiace se queste cose non essendo preparate chiaramente uno rischia pure di dire. Per esempio fino ad oggi nel codice di diritto canonico, che è il libro delle leggi della Chiesa, c'è scritto che di un tribunale ecclesiastico, per esempio, non può far parte un laico se si deve giudicare un sacerdote. Questa è una norma, cioè se è in gioco la buona fama di un sacerdote, del tribunale non può far parte un laico. Io penso che questa sia una riforma da fare. Cioè chi l'ha detto? Perché? Se un chierico si dovesse macchiare di una irregolarità, di un atto illecito, di un delitto anche dal punto di vista canonico, e c'è un laico preparato che può far parte del tribunale ecclesiastico, è giusto che ne faccia parte, perché altrimenti si rischia di dare l'idea di una casta e questo non è possibile. Quindi secondo me c'è bisogno di riforme a livello giuridico, a livello strutturale, anche a livello centrale nella Chiesa, perché no? Però c'è anche bisogno che la Chiesa resti fedele, diciamo, al Vangelo e sappia comunicare questo Vangelo nella quotidianità, perché la nostra gente, le persone hanno difficoltà in famiglia, nel lavoro, nell'educazione dei giovani, e anche questo dell'educazione dei giovani sarà una cosa sempre più difficile, perché loro hanno tanti stimoli dal mondo e quindi non sempre riescono giustamente a decifrare ciò che può essere valido per la loro formazione, la loro crescita, e ciò invece che può essere meno valido, addirittura controproducente. Quindi sono necessarie riforme, sicuramente. Penso che il Papa Benedetto XVI, nonostante sia anziano e nonostante molti lo considerino diciamo tradizionalista per certi versi, però penso che in questi cinque anni abbia messo il dito su alcuni punti che devono essere sicuramente cambiati. Oggi più che mai i sacerdoti hanno bisogno di un contributo di aiuto vero e proprio, fatto anche da persone che hanno deciso di dedicare la loro vita a Dio, pur svolgendo determinate attività. Faccio l'esempio dei focolarini e cose varie. Quanto conta però in questo caso avere ugualmente dei buoni teologi, visto che la Bibbia è considerato il libro della sapienza per eccellenza e occorrerebbe saper cogliere sempre il segno dei tempi, anche a distanza di millenni. Ecco, pure questa è una cosa impegnativa. Insomma, qui possiamo dire questo, che sicuramente oggi i sacerdoti nelle parrocchie, soprattutto quelli che quindi fanno attività pastorale diretta con le persone, hanno bisogno di un grosso aiuto. Hanno bisogno di aiuto da parte per esempio di laici che facciano incontri di catechesi, di formazione. Hanno bisogno di laici per esempio per l'amministrazione della parrocchia, perché anche le parrocchie più povere oggi sono alle prese con norme, con leggi, con problemi ordinari. Quindi l'impegno dei laici è più che mai necessario, perché i sacerdoti da soli non ce la farebbero neppure proprio a livello di tempo materiale. C'è sicuramente bisogno di una riflessione a livello teologico, perché è chiaro che se la Bibbia, che è il testo fondamentale nella vita della Chiesa, soprattutto la seconda parte, il Nuovo Testamento, il Vangelo, è trattata da persone poco, diciamo, competenti, poco al dentro, è chiaro che si rischia di far dire a questo libro cose che non dice. Quindi ci servono persone preparate, competenti, ci serve una continua formazione, un continuo aggiornamento, perché i teologi nelle accademie, nelle università ecclesiastiche sono sempre al lavoro e devo dire che ogni anno che passa ci sono delle novità, delle nuove scoperte e spesso queste scoperte e queste intuizioni che hanno i teologi noi magari le conosciamo poco, invece è necessaria sempre una formazione culturale e è necessario che nelle parrocchie queste novità prendano piede tra la gente, perché se le persone hanno una formazione culturale, teologica, possono affrontare meglio le difficoltà sia a livello personale, familiare, sia quelle difficoltà che percepiscono anche all'interno della Chiesa stessa. Quindi la formazione, la crescita culturale, lo studio anche da parte di noi laici che collaboriamo nelle parrocchie è sempre necessario proprio per offrire questo sostegno di tipo materiale e culturale nei confronti dei sacerdoti che spesso si devono occupare di più comunità e quindi effettivamente non ce la fanno a seguire tutte le varie comunità se non hanno un valido aiuto da parte dei laici. Ogni periodo storico è stato contraddistinto da alcune crisi particolari. Ogni volta che ci sono queste crisi si dice sempre che forse la Chiesa deve rinnovarsi, si dà la scolpa magari che i sacerdoti dovrebbero poter dare l'addio al ceribato, ognuno tira fuori delle possibilità quando poi ci si accorge che invece è stata proprio l'unità, questo blocco granitico di rimanere in questo modo che ha portato la Chiesa a perpetuarsi nei millenni. Ora è pur vero, tuttavia, lo diciamo anche come persone di scuola, che viviamo in un secondo decadentismo molto peggiore del primo. Il primo era un decadentismo artistico e letterario, qui un decadentismo di valori. Ora non può esserci una ricetta per risollevarsi per intero, ma sicuramente l'attività che la Chiesa svolge è anche al di fuori delle tradizioni come coloro che vanno ad assistere ai lebrosi in Africa, ospedali in posti sperduti. Tutto questo può veramente cementare una nuova generazione di persone che credono maggiormente nella Chiesa? Allora, io penso che le grandi crisi che ci sono state, ci sono state per vari motivi culturali, diciamo, storici, però c'è un filo che tiene legate tutte queste crisi e è dato, mi pare che l'abbia anche ricordato il Papa recentemente, dal fatto che gli uomini sono peccatori, sono peccatori anche gli uomini di Chiesa, insomma. Infatti si dice, un tempo si diceva, ecclesia casta meretrix, la Chiesa è una casta prostituta, è casta perché è fondata da Cristo, ma gli uomini la rendono prostituta. E questo è il limite umano. Quando questi peccati sono stati tanti, ecco, oppure sono stati, sono venuti alla luce come è successo recentemente, devo dire però che sono sempre sorte figure, penso a San Francesco, penso anche di lui a San Benedetto, cioè persone che hanno, rimanendo dentro la Chiesa e fedeli al messaggio del Vangelo, fedeli anche all'autorità, alla gerarchia, al Papa, ai vescovi, pure quando erano loro per primi i grandi peccatori, hanno cercato di fare delle riforme dall'interno. Cioè, forse la vera riforma è quella che si fa partendo dal basso, cioè sono gli stessi fedeli, gli stessi cittadini che si riconoscono nel cristianesimo, in questo caso di tradizione cattolica, che possono fare la vera grande riforma. Certo, è necessario anche che chi sta in alto, come successe per San Francesco, il Papa stesso poi sposò la sua idea e gli dette l'input, diciamo, il permesso di continuare, però venne dal basso. Sicuramente quella ventata d'aria nuova che portò San Francesco, cito lui perché qui Riedi, insomma, è ricca della sua presenza, quello spirito di riforma che è nato dal basso poi è stato sposato pure dall'alto. e sicuramente queste richieste che ci sono anche in questi nostri tempi di alcune modifiche, di alcuni cambiamenti possono aiutare molto la Chiesa. Io penso che da questo momento di crisi ne trarrà, diciamo, nuovo vigore perché c'è un messaggio che tutti gli uomini si rendono conto che è un messaggio molto forte, molto impegnativo, quello del Vangelo, che può anche modificare la realtà in bene. Chiaramente servono delle persone in grado di spendersi prima di tutto loro per far passare questo messaggio all'interno della società e prima di tutto all'interno della Chiesa stessa. Quando ero bambino leggevo spesso delle frasi di Giovanni XXIII, uno dei più grandi papi di ogni tempo, e diceva che spesso il cristiano trova ancora nuove energie persino nei posti dove è tenuto schiavo o dove il cristianesimo, come era nei regimi comunisti, era fuori legge. Quello che temeva maggiormente Giovanni XXIII, anche quando era stato ancora nonzio apostolico e aveva girato il mondo, era invece il mondo dell'indifferenza, dove spesso questa indifferenza non carica poi il soggetto per agire. Viviamo oggi anche questi tempi in questo mondo troppo, per certi versi, misero e per certi versi troppo grasso? Sì, effettivamente nei periodi di persecuzione o di travaglio ci sono state tante spinte alla crescita, per esempio penso non solo al Medioevo ma anche poi a tutta l'epoca seguita alla riforma protestante dal 1500 in poi, in cui erano momenti di forte crisi, di contrasti anche fisici, anche di guerre a volte. Esatto, fino appunto recentemente ce lo ricordava, sì era Polonia, Giovanni Paolo II, però proprio quel momento di sofferenza era un momento che faceva riflettere di più anche sul significato della vita e sul senso della religione e univa. Questo è successo in Polonia, quando in Polonia è crollato per esempio il regime comunista e che c'è stata la libertà, per esempio è diminuita di molto la frequenza alla messa domenicale da parte dei cattolici polacchi, perché la libertà, la possibilità, le possibilità economiche, la possibilità di divertirsi giustamente creano anche, forse per certi versi, l'illusione da parte delle persone di poter fare a meno della dimensione religiosa. Però questo poi genera altre crisi, come è successo anche qui nel mondo occidentale più, chiamiamolo, più sviluppato, più ricco. Noi pensiamo di poter fare a meno della dimensione religiosa, però, che posso dire, l'attuale situazione del petrolio che sgorga dai fondali marini e non riusciamo a bloccarlo, a volte ci fa riflettere anche sulla nostra condizione umana, nonostante la capacità tecnica, scientifica, noi non riusciamo a bloccare questa cosa, perché l'uomo in alcuni momenti scopre proprio di essere limitato. Quando ha troppo, potremmo dire, si illude di poter fare a meno di una dimensione religiosa del mondo trascendente, di Dio. Ecco perché abbiamo voluto riflettere pure sulla questione di Dio, perché se Dio c'è o non c'è nella nostra mente, nella nostra idea, cambia il nostro approccio con la realtà, non è una cosa da poco. Che ne so, per un politico, per un insegnante, per un padre e una madre di famiglia, che Dio esista per lui o non esista cambia tutto, cambia la prospettiva di vita, non è una cosa da relegare solo nel profondo della coscienza, è una cosa che attiene alla vita pratica. Ecco, secondo me la questione di Dio attiene alla vita pratica e così pure la dimensione religiosa. È chiaro che io stesso spero e prego che ci sia sempre il benessere, la possibilità di fare cultura, di avere i mezzi economici pure per vivere in maniera dignitosa, non è che auspico un ritorno alla povertà. Però questo benessere non deve essere motivo per negare la dimensione spirituale dell'essere umano. Possiamo rilasciarci anche a una cosa, l'ultimo vincitore del premio Templeton diceva che per esempio ci sono le nazioni scandinave dove dal punto di vista sociale le cose forse funzionano meglio che da noi e il cittadino sarebbe accudito dalla culla alla tomba. Però proprio nel momento in cui va alla tomba magari ci va nell'indifferenza dell'intero palazzo che non si accorge nemmeno che esce una bara e al tempo stesso diceva c'è un tasso di mortalità giovanile per suicidio per cui uno dice ma come mai? C'è il lavoro, ci sono i soldi, quindi qualcosa evidentemente manca. Io penso di sì, questa cosa la conoscevo pure io. Effettivamente nei paesi che sembrerebbe un paradosso perché possiamo dire che in un paese povero dove si fa la fame, dove si soffre di sede uno potrebbe avere la tentazione anche giustamente per certi versi di farla finita. Invece in questi paesi mi sorprende molto quando vedo alcuni documentari che questi bambini pur nudi, denutriti, hanno voglia di vita, hanno quel sorriso e spesso i loro genitori con poco, con una ciotola di riso al giorno riescono ad andare avanti e quando ce lo raccontano i missionari questa cosa stentiamo a crederci. Invece proprio laddove c'è opulenza è che si evita di riflettere secondo me sul significato della vita, riflettere sul significato della vita che poi non vuol dire che il vero, io non voglio dire anche come cattolico che il vero significato della vita sia quello religioso o quello cattolico, però il problema non è quale senso della vita, il problema è aver rimosso l'idea che la vita possa avere un senso e che si debba cercare questo senso, perché basterebbe cercarlo per tenersi in vita, ma quando invece uno non ha più nulla su cui riflettere rischia di perdere il contatto con la realtà e soprattutto di non capire il motivo per cui fa certe cose. Io sono sicuro che nei paesi poveri per esempio ci siano pochi genitori che per esaurimento nervoso uccidono i figli, forse ce ne sono più qui da noi, proprio perché la depressione, tutte le malattie psichiche che abbiamo noi, io le chiamerei anche spirituali, non in senso religioso ma proprio in senso interiore, nascono proprio dalla ricchezza, dall'avere troppo e dal desiderare sempre di più e questo desiderare sempre di più porta a momenti drammatici. Spostiamo un attimo l'ultima considerazione su un piano filosofico. Nelle attività che tu svolgi nel quotidiano insieme a tante altre persone ti capita di accudire persone che soffrono, dare un consiglio a una persona che ne ha bisogno. Quanto è importante effettivamente il valore di ogni singolo giorno per il normale cristiano? Diciamo che per noi credenti è un po' come per tutti gli altri, cioè pure noi siamo presi dal lavoro, da mille impegni e quindi a volte come tutti sentiamo, penso lo senta pure il Papa, i Vescovi, i preti, il peso della vita quotidiana. Spesso può essere più pesante ascoltare una persona che è in difficoltà e trovare una parola di aiuto, di conforto, che magari aiutare una persona malata, perché forse la persona malata uno se ne fa più una ragione se è esperto in quel campo e se lo fa spesso. Dare consigli a persone che sono in una situazione psichica, spirituale, critiche, difficile, che hanno problemi in famiglia, questo è molto complicato e a volte fa sopraggiungere la stanchezza e credo anche un senso di impotenza, perché aiutare una persona a venirne fuori non è facile. A volte, come ha detto Nazareno Iacopini in quella trasmissione, può essere sufficiente anche solo stare vicino alle persone per far sentire il calore della propria presenza. A fare questo non siamo tutti capaci, non è facile neanche stare in silenzio vicino a una persona che soffre o che ha un problema, mi rendo conto, però so che molti lo fanno, molti sacerdoti lo fanno e danno il loro contributo, che sembra un contributo non materiale, però che aiutare una persona a ritrovare la gioia di vivere o perlomeno la forza di superare le difficoltà è molto di più che dare a questa persona dei soldi, secondo me, perché riesce a lavorare meglio, ad affrontare le difficoltà meglio e quindi il peso della vita quotidiana lo sentiamo tutti e proprio nel quotidiano quando si fanno cose che non sono valutabili, penso che lì noi realizziamo anche chi non è cristiano ma lo fa lo stesso, penso che realizzi in qualche modo la parola del Vangelo. Una battuta finale, il ruolo della famiglia quanto mai importante? Questo pure ti chiederebbe, spero di poterlo trattare se sarà possibile anche nell'anno prossimo, la famiglia è in una situazione di crisi forse come non era mai successo, nel prossimo decennio, 2010-2020, la CEI, la Conferenza Episcopale Italiana, sta mettendo nei suoi orientamenti proprio la questione della famiglia, perché la famiglia è disgregata, ci sono tanti problemi economici di relazione, soprattutto affettivi, forse lì la Chiesa deve puntare insieme ai giovani tutte le sue energie per trovare il modo, diciamo così, per coinvolgere le famiglie, per far sì che si parli dei problemi prima che sia troppo tardi e la famiglia è il cuore non solo della Chiesa, perché lì crescono i figli, ma è anche il cuore della società civile. Se crolla la famiglia, secondo me, ne viene un danno, ma grossissimo, anche alla stessa società civile. Un baluardo fondamentale, quindi. Bene, ringraziamo il professor Casciani, lo invitiamo prossimamente a riprendere questo importantissimo servizio che è stato fatto con altre tematiche che andranno senz'altro approfondite. Vi lasciamo da questa splendida cornice che è il Palazzo Papale di Rieti, nostro patrimonio culturale e spirituale. Arrivederci.